ciao ragazzi io sono riccardo bentornati nel mio canale youtube oggi voglio parlarvi di una grande stampante no non grande solo per le dimensioni ma grande per le sue prestazioni è la mingda rock 3 è grande perché ha un volume di stampa di 32 cm per 32 cm per 40 cm e poi pensare ad avere stampato qualcosa di grande no perché nelle cose molto grandi non si notano i dettagli quindi ho voluto stampare tre pezzi da farvi vedere in questa recensione stampato anche altre cose ovviamente che ci faranno capire la qualità di questa stampante quindi il classico cubo poi la barchetta e poi una testa di moro che ha dei dettagli piccolissimi che non mi sarei mai aspettato che sarebbe riuscito a stamparli così bene ragazzi ora guarderete rimarrete secondo me senza parole perché ha una qualità di stampa eccezionale allora il suo prezzo è elevato mingda produce stampanti a livello industriale già mi ha fatto conoscere la magia x quella mi ha fatto innamorare perché oltre ad essere tecnologica quindi avanzata all'avanguardia come stampante ha anche degli ottimi risultati questa non è all'avanguardia quindi non ha per esempio l'ottolivellamento e sensori di fine corsa non sono ottici e manca qualcosina che ci faccia dire wow per quanto riguarda le caratteristiche perché al giorno d'oggi ci sono stampanti molto più evolute a 560 euro su amazon si trovano effettivamente alle stampante che ci danno caratteristiche moderne ovviamente adeguate ai tempi di oggi ma magari non ci danno questa qualità di stampa quindi adesso cambiamo inquadratura vediamo come riesce a stampare vi farò vedere ovviamente anche l'unboxing velocissimo il montaggio che richiede se no dieci minuti e ovviamente guardiamo cosa è riuscita a darci però un dettaglio io mi sono fatto mandare il tappetino flessibile perché ormai mi sono innamorato dei tappetini magnetici flessibili per saccare il pezzo ma in dotazione viene dato il piatto in metro quindi noterete questa differenza adesso cambiamo inquadratura e guardiamola ma prima di iniziare a guardarla nei suoi dettagli guardiamo un rapido video dell'unboxing e del montaggio i don't want to see you i don't want to hear you tonight i don't want to fight you you don't want to know if i feel right i don't want to just forgive you i just want to be fine i'll be waiting for a sign to light up yeah and your heart is out of sight i just want to feel mine hey you i'm gonna be the one for another one hey you maybe then you know that i was never one come avete visto quindi si monta davvero in 10 minuti quindi nella parte frontale troviamo gli ingressi usb e della scheda sd troviamo anche il display touch a colori questa è la regolazione della cinghia del movimento dell'asse y il piatto come vi ho detto in questo caso io ho messo quello magnetico flessibile mi piace tantissimo scusate ci sono questi segni ma ho usato un filamento che non mi piace assolutamente si tratta di questo io non mi sono trovato bene con nessuna stampante infatti in un paio di recensioni avete visto dei risultati non proprio gradevolissimi proprio perché questo filamento non mi piace comunque continua a parlare della stampante la stessa regolazione per la cinghia la troviamo anche per il movimento dell'asse x e per quanto riguarda l'asse z abbiamo due viti senza fine sincronizzata nella parte alta da una cinghia che consentono quindi un movimento sincronizzato tutta la struttura è molto solida ed è ovviamente in alluminio l'asse x e l'asse y si muovono su queste ruote gommate è possibile regolarle ovviamente sono eccentriche quindi possiamo decidere quanto devono stringere sui profili guardate anche il cablaggio avrebbero potuto utilizzare dei cavi flat effettivamente però anche in questo modo risulta molto ordinato questo invece è lo tende tutto a vista mi piace tantissimo e si tratta di una direct drive e questi sono i sensori di fine corsa quando l'ho visti ho storto un poco il naso effettivamente invece funzionano a perfezione sulla destra in fondo troviamo il tasto di accensione e il cavo di alimentazione un particolare che però mi ha stupito è stato il fatto che durante il funzionamento questo pezzo si muova non mi era mai successo di vedere questa cosa in una stampante 3d ho contattato il produttore ho chiesto informazioni mi ha detto che del tutto normale quindi durante il movimento dell'assenzetta sentirete un ticchettio dovuto appunto al movimento di questo pezzo questo è il sensore di fine filamento ovviamente quando terminerà si interromperà la stampa ci darà possibilità di inserire un nuovo filamento e questo è il reggibobbino il sensore di fine corsa per quanto riguarda la 6x invece è tarabile quindi regolabile tramite questa vita quindi in base a quanto avviteremo la vita avremo un abbassamento un innalzamento maggiore dell'asse z e per quanto riguarda le caratteristiche tecniche estetiche di questa stampante diciamo che abbiamo detto praticamente tutto perché nel complesso è una stampante semplice si monta in modo rapido e si utilizza in modo semplice quindi accendiamola e vi faccio sentire anche quanto sia silenziosa una volta accesa ok la stampante già si è accesa si sente appena una ventola e sotto lo tende non mi piace tantissimo in realtà c'è questo led che cambia colore quindi durante la stampa avrete la compagnia di questo led multicolor e dal menù non sono uscito a trovare come si faccia per rimuovere questa funzione guardiamo quindi il menù molto rapidamente abbiamo diverse opzioni per quanto riguarda i vari comandi quindi la possibilità di interagire sul movimento dei vari assi quindi proviamo a muovere per esempio l'asse z adesso muoviamo anche l'asse x poco fa ho fatto fare dei movimenti di un solo millimetro ora lo farò da 10 mm anche in questo caso ragazzi silenziosa ok è questo l'asse y l'asse y si sente leggermente di più nel complesso diciamo è silenziosa adesso continuiamo a guardare il nostro menù torniamo indietro da questa freccetta abbiamo la possibilità di estrudere il filamento questo è il comando di stampa e più in basso abbiamo delle opzioni quindi la possibilità di calibrare il touch scegliere la lingua ovviamente io impostato in italiano la possibilità di fare disattivare il bip e info invece si dà le informazioni sulla macchina per quanto riguarda il firmware eccetera dal tasto stampa abbiamo la possibilità di scegliere i file che vogliamo stampare e ovviamente durante la fase di stampa avremo anche la percentuale di avanzamento e le varie temperature del piatto di stampa e dello tende e allora ragazzi guardate abbiamo impostato 60 gradi adesso la temperatura leggermente sta scendendo però guardate abbiamo un piatto di stampa perfettamente riscaldato in modo omogeneo e adesso mandiamo la suom sentite che effettivamente durante il movimento è silenziosa in questo momento state sentendo la mia voce e non sentite praticamente muovere la stampante si sente appena un ronzio però durante la stampa un po di rumore in più si sente perché in quel caso c'è anche l'estrusore che non è proprio silenziosissimo però tutto il resto come state vedendo è praticamente molto silenziosa ma concentriamoci sul succo di questa stampante ragazzi allora innanzitutto questo è il cubo è il cubo il cubo ho deciso di stampare contemporaneamente sia il cubo che la barchetta solitamente quando faccio queste stampe di due pezzi in contemporanea si forma molto stringing invece ragazzi questa volta non se ne è formato assolutamente guardate che qualità come sempre nella parte più alta c'è un accenno appena di cedimento ma una cosa impercettibile devo ammettere che obiettivamente come stampa questo cubo mi piace tantissimo riuscito molto molto bene sia sulla parte alta che sulla parte bassa quindi anche il primo layer davvero eccezionale adesso guardiamo anche la barchetta poi misureremo ovviamente questo cubo per vedere la sua precisione nella parte bassa vediamo che anche in questo caso il primo layer è stato stampato bene si vede la scritta col bianco non risalta tantissimo tutte le superfici sono stampate molto bene anche nella parte posteriore c'è la scritta l'unico string che si vede ed è come se non ci fosse e questo all'interno di questo blocco come ho detto nell'introduzione di questo video min da produce stampanti a livello industriale quindi mi aspettavo comunque una qualità di questo tipo davvero un'ottima stampa ragazzi guardate a me piace davvero tantissimo ma quello che mi ha stupito è la stampa di questa testa di moro guardate davvero molto piccola eppure nonostante i supporti che solitamente vanno a dare fastidio e durante il distacco poi danneggiano il pezzo stampato guardate tutti i minimi dettagli addirittura i forellini tra una maglia e l'altra di questo orecchino mi hanno lasciato sbalordito tutti i layer sono venuti molto bene e ci tengo a precisare che non ho alcun interesse a parlare così bene di questa stampante come vi ho fatto vedere le altre stampanti che stampano bene questa volta vi faccio vedere questa stampa bene ma un po meglio delle altre perché ci dà questa precisione che sulle altre stampanti effettivamente non sono riuscito a cogliere guardate ragazzi non ci sono segni di cucitura tutto il pezzo è venuto benissimo lo guarderei per ore ed ore a me piace davvero tantissimo l'avrò detto un milione di volte ma quando una cosa merita merita adesso guardiamo anche i time lapse delle stampe di questi pezzi potevo stupirvi con effetti speciali come si suol dire e invece ho voluto stupirvi spero di avervi stupito con la qualità possiamo riuscire a stampare praticamente di tutto anche le cose che abbiano dei dettagli più piccoli voglio dire il prezzo è importante chi investe una cifra come quella necessaria per acquistare questa stampante ha bisogno di stampe che siano eccezionali e a proposito di stampe eccezionali ho dimenticato di farvi vedere le misure del cubo ve l'ho detto e poi non l'ho fatto quindi azzeriamo il calibro digitale e andiamo sulla misurazione vediamo i vari assi e allora qua abbiamo 30 mm esatti proviamo a girarlo vediamo anche da questa parte qua abbiamo addirittura 30 mm spaccati mi stavo cadendo giriamolo da quest'altra parte e qua abbiamo 30 mm e 09 praticamente un cubo stampato a meraviglia sia per quanto riguarda la qualità la parte estetica della stampa che per quanto riguarda le proporzioni per me questa stampante è promossa mi è piaciuta mi è piaciuta tantissimo detto questo non mi resta che ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo vi invito ad iscrivervi al mio canale mettere mi piace qua giù cliccare sulla campanella per attivare notifiche e ci vediamo a tutti i miei prossimi caricamenti ciao da riccardo è preso